Te la costruisci come vuoi. Perché io non so gli altri, ma io quando compravo una motocicletta, la prima cosa che facevo, giravo l'angolo, andavo da una aftermarket, cambiavo il colore, cambiavo le sospensioni, cambiavo sempre per non essere uguale agli altri. Quindi questa motocicletta qui, l'Avvium in particolare, questa moto, esprime il massimo di quello che tu puoi fare nella tua volontà di avere la tua motocicletta. Infatti, come vedi, non abbiamo mai fatto uno uguale all'altro, tutto è diverso appunto per questo. Ci sono due famiglie di interventi che sono possibili sulla moto e che vengono spiegati attraverso il sito. Il primo è di carattere tecnico e quindi ti dà una serie di opzioni tecniche sulla ciclistica, sulle sospensioni, sui freni, su tutte le parti che hanno qualcosa a che fare con la tecnica della motocicletta. La prima parte è questa, quindi puoi scegliere una versione che sia più, diciamo, destinata ad un uso sportivo stradale estremo, piuttosto che uno più turistico, oppure esteticamente se tu vuoi le ruote in raggi, le ruote in lega. Dopodiché c'è una seconda parte che invece è squisitamente estetica. E quindi hai ovviamente la possibilità di scegliere i colori, qualunque colore, sia il telaico della carrozzeria, ma non solo, puoi scegliere se, per esempio, la carrozzeria può essere lucidata invece che verniciata, insomma, puoi scegliere anche il tipo di sella, di fodera della sella. Le possibilità sono veramente illimitate, noi non diamo nessun limite al cliente, qualunque cosa è possibile realizzarla.